Emergono problematiche in merito alla verifica dell'accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e l'ENI il 4 novembre del 2014 ed il successivo sviluppo del protocollo di intesa siglato il 6 novembre dello stesso anno al Ministero dello Sviluppo Economico. Inconcruenze operative e gestionali sulla modalità del completamento del progetto complessivo nel territorio e quanto riferiscono la Filctem CGL, la Femc CISL e Wiltec Wil. Per le sigle sindacali è necessario effettuare nell'immediato un confronto serrato in merito all'esplorazione e la perforazione. Pur non mettendo in discussione la validità del progetto, da una verifica effettuata emerge ad oggi solo un forte impegno nell'ingegnerizzazione e progettazione, ma non è chiara la dinamica dell'avvio fattivo dei lavori per la realizzazione dei progetti presentati, le autorizzazioni annesse e qual è l'organizzazione del lavoro inteso come assetti organizzativi della società Enimed. Di recente le segreterie generali territoriali avevano denunciato un comportamento unilaterale della raffineria Eni nel portare avanti il processo riorganizzativo della fabbrica facendo emergere tutta una serie di anomalie in merito agli assetti organizzativi degli impianti che, dicono le sigle sindacali, sono eccessivamente ridotti come organico. Si manifestano dubbi sulla realizzazione della raffineria green non come costruzione ma come tempi di realizzazione e messa in marcia rispetto al cronoprogramma presentato. Sindia, la fronte dei processi di bonifica in corso e le attività in via di definizione, rimarcano i sindacati, dovrà affrontare nell'immediato la questione dell'organizzazione del lavoro a fronte di una struttura che dovrà gestire problematiche e aspetti di sicurezza ambientale. Le società dell'Eni, attraversate da problematiche di diversa natura, si devono attivare per un confronto tra le parti e nel contempo devono desistere dall'intraprendere azioni unilaterali. Filc Temcigel, Femc Cisle e Wiltequil sono propense a mettere in atto un pacchetto di ore di sciopero se non arriveranno soluzioni immediate.